Prima i malumori per la cancellazione del parcheggio, poi le critiche sul nuovo volto della piazza di qualificata, soprattutto per quanto riguarda pavimentazione e panchine. Ora la cherella su Tavolini e Movida. Non c'è pace per Piazza De Gasperi, sempre al centro delle polemiche. Dopo lo stop di un mese causa concessione scaduta per l'occupazione e le lamentele dei residenti per gli eccessivi rumori, da ieri sono tornati i tavolini in Piazza De Gasperi. Una piazza che ha cambiato volto più volte negli ultimi tre anni, ma che ancora non ha trovato un assetto definitivo. Come già accaduto in passato a Como, in altri angoli di città, il nodo del contendere riguarda la cosiddetta Movida notturna. Movida che in parte, soprattutto durante la bella stagione, si è spostata in riva al lago, in una delle prime piazze riqualificate dell'attuale amministrazione, con buona pace dei residenti della zona che ora lamentano i rumori eccessivi. Possiamo e dobbiamo contemperare le esigenze di residenti ed esercenti, spiega l'assessore all'urbanistica del comune di Como, Lorenzo Spallino, che giustifica così la soluzione temporanea trovata in quest'ora da Palazzo Cernezzi, che ha permesso il ritorno dei tavoli, anche se con circa 70 posti in meno e con orari notturni ridotti, fino a mezzanotte e mezza, il venerdì e il sabato, massimo mezzanotte durante gli altri giorni. Si andrà avanti così fino al 3 giugno, poi il verdetto definitivo, anche alla luce delle nuove rilevazioni sull'impatto acustico, che dovranno aggiornare le ultime a disposizione effettuate quando la piazza era usata soltanto per parcheggiare. La piazza ha cambiato volto. Giustamente, secondo noi, il comune deve prendere una decisione, ovvio, noi commercianti dovremmo comunque fare attenzione a non superare i limiti, ma nello stesso tempo comunque le attività devono lavorare per il turismo. Pronti al compromesso dunque gli esercenti della zona, pur di evitare la totale rimozione dei tavolini dalla piazza e scongiurare il rischio che, paradossalmente, lo spazio possa tornare a essere usato soltanto per parcheggiare le auto. Soluzione estrema che non piace nemmeno ai residenti. Penso che dovranno trovare una normativa che consenta di capire bene se i tavolini sono definitivi oppure no, perché li mettono, li tolgono e comunque creano un po' di confusione all'interno del quartiere. Per noi residenti il problema è che non troviamo posto. E poi comunque di sera c'è parecchio rumore. Io preferisco i tavolini al parcheggio. Il problema è il rumore. La soluzione del ridurre l'orario, secondo me, potrebbe funzionare. Un compromesso. Un compromesso, per forza.